Tosi è corso tra le braccia di Alessandra Moretti, si scambiano effusioni amorose mezzo stampa e in televisione dal vivo. La trovo una cosa veramente di cattivo gusto, di cattivo gusto per chi ha bisogno di risposte concrete per il Veneto e non di vedere i soliti partiti politici che si azzuffano e si danno gli abbracci per il 5% e il 2%, ma soprattutto per dividersi in malloppo e spartirsi le poltrone. Una crociata contro i poteri forti, quella del candidato alle elezioni regionali del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, che prima di aprire ufficialmente la sua campagna elettorale in Veneto ha scelto di osservare le mosse degli avversari. Io mi rendo conto che esistono questi poteri forti, esistono e mettono da parte, esaltano chi non ha alcuna rappresentanza politica. Berti sostiene di essere stato oscurato dalle televisioni nazionali. Noi, che rappresentiamo il 20% almeno di tutti gli italiani e dei veneti, veniamo messi in disparte come fossimo solamente dei rompiscatole. Nel Vicentino ha sollevato il tema delle falde inquinate, presentando un esposto mercoledì in procura. Oggi anche lui è tornato invece sul tema della sanità a Padova. La sanità è un servizio, va mantenuta sul territorio. Questo vuol dire andando a razionalizzare, ovvero a tagliare tutti quei costi di dirigenti che ci sono in più. Quindi togliamo dirigenti ma non togliamo posti letto.